L'ultimo weekend le verifiche, ci sono state verifiche continue fatte sia dalla Polizia Municipale che dalle Forze dell'Ordine, soprattutto ci si è concentrati sulla vendita di alcol a minorenni, questo che è un aspetto molto critico di cui anche con il Prefetto stiamo discutendo, anche a livello nazionale e questo è uno degli argomenti su cui ci concentreremo nelle prossime settimane perché questo rappresenta una reale emergenza, quindi si sta andando avanti e in parallelo ovviamente si lavorerà sul regolamento per fare in modo che poi ci siano delle misure permanenti. Pensate a qualche correttivo? Dopo la discussione in Consiglio sicuramente c'erano delle proposte? Sì sicuramente, è ovvio che noi con il regolamento interverremo principalmente sull'orario di mesi, sull'eliminazione degli orari di vendita degli alcolici e soprattutto anche sul tema della musica, del rumore, della musica all'esterno, questi saranno i due elementi regolatori che ci saranno alla fine nel regolamento che si metterà a punto.